era qui che ci eravamo fermati la scorsa volta nella nostra vanilla di minecraft e qui in cui adesso ammazzeremo un povero pesce che stava con la sua famiglia a nuotare e qui ok che la smetterò di fare e qui in continuazione perché vi ho scacciato così tanto che lui fate può sparare in testa e qui la finirò perché se no allora vi ricordo di iscrivervi al canale perché se non lo fate se non vi iscrivetevi al canale vi chiederò il vostro mondo di minecraft come si chiama e verrò a distruggerlo lo distruggerò io con le mie mani quindi iscrivetevi al canale e suonate la campanellina non è obbligatorio però eh ragazzi se non volete suonare la campanellina non lo fate però più obbligatorio della scuola e più voi andate a scuola è obbligatorio andare a scuola e iscriversi al mio canale è ancora più obbligatorio ragazzi iscriversi al canale arriviamo i 30 iscritti e voi mi direte che il videogioco scaricare non faccio fortnite perché se no inizierete a a dirmi cose brutte e bene perché sono una schiappa e inizierete a dirmi cose brutte quindi non giocherò fortnite mai nella vita anche perché a me fortnite non piace poi se ci sono altri che dicono come puoi dire una cosa del genere io non c'ho niente contro fortnite a me fa schifo altro che i altri youtuber altro che i altri youtuber raga non li batte non mi batte nessuno a me altro che gli altri youtuber che ci mettono mezz'ora per per catturare una strega per ammazzare una strega e io spada in legno ammazzato una strega ne manco un colpo io c'è mamma mia raga adesso dove è la sua casa la sua casa mi so cagato sotto quando ho ho sentito io è la fine poi mi so girato ho fatto ui si che bello raga altro che gli altri ah mi ha colpito ah la raffica questo no povero cavallo su minecraft si possono picchiere tutti tutti gli animali tranne i gatti i cavalli a me non piacciono i cani quindi secondo me vabbè come ho detto prima c'è chi piace e chi non c'è anche i cani non devono essere picchiati sì ma io non provo eppure questa è la versione originale di minecraft perché non c'è perché non c'è allora raga io non sono come gli altri youtuber avete visto allora e poi dite che gli altri youtuber sono meglio questo fatto perché ho ammazzato la strega senza farmi colpito la mia volta perché sì perché vi dovete iscrivere al canale non ce l'ho messa io e poi non c'era nemmeno la casa di quella strega raga è stato un altro fatto dobbiamo fondare la nostra la nostra casa io penso di farla qua sopra sorgerà abbiamo pure una bella distesa di erba sorgerà casa nostra no ancora più sopra ancora più sopra ok andiamo sopra 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 e fondiamo qui che abbiamo pure il carbone per farci le torce la nostra casa qui sopra ok iniziamo mettendo il letto la crafting e questo sarà il nostro secondo video nella vanilla ci iniziamo a costruire una casa io secondo me per terra sapete il pavimento mi piace di pietra ecco mi piace così poi vedrò più in là se lo vorrò cambiare ma tanto se lo cambio io muorro no ok la ci metto ok no no poi c'è il copyright vaffancio allora quando diventerò famoso questa vanilla sarà il pezzo forte per questa mossa qui questo video lo chiamerò ammazziamo le pecore che ha rotto la spada ammazzando pecore maledette pecore del cavolo su un pollo il pollo lo lasciamo vivere invece no andiamo di ascia andiamo di ascia vado di ascia vado di ascia ciao pollo non ti voglio fare niente vedi cosa è un ascia oh si è morto peccato un altro pollo è morto che peccato è morto in un modo mamma mia è morto in un modo mamma mia ok andiamo a costruire casa che sta abbassando il sole sta abbassando il sole cosa 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 appena ho detto vabbè mettiamo letto mettiamo letto mettiamo crafty table letto così mamma professional logic fish adesso mi sentirò Renzi che mi parla testa internolgical giovanni erizione shish ok allora continuiamo a costruire io spero di arrivare alla nederite in questa in questa vanilla quindi raga non so la nostra vita cantiverà sempre così vita bella fermiamo punto di generazione un po' statto puoi dormire soltanto di notte è il tramonto di sole prendimelo come notte grazie cioè non vado cioè non vado a dormire alle sette io cioè 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 ok non la smetto un po' patendo il pretino raga ma perché no 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 non voglio dire niente non voglio dire niente non voglio dire niente non voglio dire niente perché poi dite eh sì perché perché ecco adesso lo dico perché mi sono fatto un piccone una spada ecco allora ci facciamo questo questo maledetto mi eh spendiamo si facciamo le ok torcia secondo me devo essere più attiva quindi quindi è un po' è un po' troppo un po' troppo ecco un po' troppo allora facciamo tipo un composto di due e poi ci andiamo a mettere sopra una tre una torcia così che be' che cosa tiriste mamma mia poi se ne facciamo altri due può partire un ponte che arriverà lì eh se ci pensiamo raga se ci pensiamo ciao Ciao!